Chi è che sa cos'è il wakeboard qua? Alzi la mano, nessuno. Madonna. Uno, uno, chi è che sa il wakeboard? Perfetto, grande. Allora, è come lo snowboard. Uso questa tavola, questa è la mia bellissima tavola. Ecco, attenzione, Chiara Rosa Valletta, d'onore, che onore. Domani chiudo tutti i trick adesso che l'ha toccata Chiara Rosa. E niente, si fanno i salti, i trick, i flip, tutti quei nomi strani che nessuno sa cosa sono. Insomma, tutti i salti mortali, a destra e a sinistra, sui salti dall'acqua. E, attenzione, qua a Padova, visto che siamo qua, si può praticare, ce l'avete vicinissimo, ne avete uno a Selvazzano dentro, uno a Resana e uno a Treviso. Quindi domani tutti a fare wakeboard. O calcio, come preferite. Quindi è ovviamente uno sport, diciamo, non molto comune, che non tante persone conoscono, ma è bellissimo. È uno sport che è candidato alle Olimpiadi del 2020, insieme ad altri sette sport. Quindi è in estrema crescita, è solamente in Italia che sta prendendo piede, però piano piano ogni anno aprono più impianti, perché comunque, come avete visto, fa un caldo boia, quindi non si può più sciare e si andrà a sciare sempre di più sull'acqua. E non mi ricordo che domanda mai hai fatto? No, no, beh, il wakeboard abbiamo capito cos'è, la tavola c'è, la valletta c'è, l'atleta c'è, quindi anche le sedi dove andare a provare questo sport ci sono. È uno sport minore, come stavamo dicendo prima, Rianna. Quindi, anche per te, cosa significa spostarsi, andare agli allenamenti, andare alle gare? Come ti organizzi? Cioè, nel senso, hai uno staff, hai una squadra che ti segue, c'è qualcuno che ti aiuta? Rimborsi spese. Allora, a parte il cane, no, nessuno. Mamma ogni tanto, quando ha voglia. Sei vicino a casa, se no è troppo distante. No, allora, essendo appunto uno sport minore, è molto difficile, a maggior ragione se sei una ragazza, perché nelle squadre nazionali, ovviamente la maggioranza dei membri della squadra sono magari dieci uomini e una ragazza. Fanno un po' questo giochino qua, simpaticissimo. Quindi risulta sempre super, super difficile organizzarsi. Io non ho un preparatore atletico, non ho il fisioterapista, non ho la società che mi organizza la trasferta, quindi prendo il mio furgone, guido, dormo nel furgone, faccio la gara e torno a casa. Ci si organizza da soli, quindi lo scrocco è la miglior tecnica per risparmiare i soldi, perché rimborsi spese manca a sognarceli. E addirittura la cosa più brutta, poi, quando vai a fare una gara anche di Coppa del Mondo, vai lì, guidi tutte, vinci e poi vedi che il primo uomo vince 2000 euro, la prima donna 200. È così, è così purtroppo. Esatto, Arianna, perché per quanto riguarda comunque le vincite, vedi anche solo per il campionato di beach che c'è stato a Bibione, il premio per le donne era la metà rispetto a quello degli uomini. Quindi qui non solo si parla di rimborsi spese inesistenti. Vuoi che il wakeboard in Italia non è uno sport conosciuto, è uno sport tra virgolette minore. Mi dispiace anche descriverlo come uno sport minore, ma in effetti lo è, perché a livello di tutele non ci sono. Però, come diceva Arianna, per l'appunto, è molto importante capire questa cosa. Cioè, anche a livello di compensi, di vincite, le nostre atlete donne vanno, vincono e prendono. Forse. Forse, cioè quando c'è il cash prize, quando vedi i soldi, ti baci le mani e dici, mamma mia, si sono ricordati. Ma di solito è molto umiliante, no? Perché dici, cavolo, il primo uomo vince 1000 euro, perché io vinco e devo prendere 500 euro o 300, cioè meno della metà. Però purtroppo è sempre così. Tranne in paesi come ad esempio l'Olanda, quest'anno che è stata la prima gara di Coppa del Mondo, dove finalmente hanno dato gli stessi soldi sia agli uomini che alle donne. Anche in uno sport minore. Quindi dei progressi si stanno facendo. Parlavamo prima con Luisa che il cambiamento deve partire da noi. Nel senso che noi l'anno scorso, Luisa se lo ricorda benissimo, a Roma, quante le ne abbiamo cantate? Troppe. Troppe che io ho ricevuto le minacce. Mi hanno detto tu non puoi permetterti di andare a Roma con la vicepresidente del Senato presente davanti alle TV, alle telecamere e dire che le donne vengono umiliate e sfruttate dello sport. Perché poi dopo il CONI non ti chiama più, non ti convoca più, non ti dà più le medaglie al valore atletico. Ma noi come già Luisa sa, noi le medaglie al valore atletico ci pugliamo il fondo schiena, non ce ne frega niente. Perché che senso ha che poi a fine anno, che hai vinto tutti i campionati, ti arriva questa bellissima letterina dal CONI e dice bravissima, hai vinto questa medaglia. Ciao e grazie. Ma noi prestampate tutti uguali, ovviamente. C'è anche la firma, manco la fa, capito? È il PDF. Non si sprecano, Giovanni, manco le firme a queste carte. Domani mi arriva la denuncia del CONI, già l'aspetto, eh. Tanto ormai lo sanno che io, come dico a Luisa, io preferisco, mi chiedono sempre, ma perché tu Ari non fai parte delle squadre nazionali? Allora, se devo indossare la maglia dell'Italia in una squadra dove mi considerano, lo diciamo, più come un oggetto sessuale che altro, perché vedono la bella signorina da avere nella squadra che invece di allenarti, di prenderti seriamente, ti prendono così per fare il team. Io piuttosto ci vado da sola con la mia maglietta sporca e basta. E dicevamo sempre, prima, anche con Luisa, che questo cambiamento che stiamo facendo, tutte queste lotte, questi dibattiti, adesso noi, ormai io e Chiara siamo, è già la seconda volta che ci vediamo, siamo qua a battere per sempre, siamo dure, noi non molliamo, mi sa. Non molleremo mai. Luisa, poi, ciao. Quando si arrabbia dà fuoco a tutto, quindi attenziona, non fatela arrabbiare. Però deve partire dalle stesse atlete, cioè, se noi donne, come c'è stata tutta la battaglia per i diritti nel lavoro, bisogna iniziare a farla anche nei diritti nello sport, ma partendo dal piccolo, dalle piccole società, dai campionati regionali, ai provinciali, agli italiani e poi agli internazionali. Perché se aspettiamo che le cose cambino, così, aspettando che ci piova dal cielo, non cambierà mai niente, perché ormai sono 70 anni, come ha detto Luisa, che non c'è una donna in tutto il coni che ricopra una carica ai livelli alti. E questa cosa è inammissibile. Cioè, noi siamo, sempre, non è che non ci sono donne tecnici di qualsiasi sport, perché poi, ovviamente Luisa lo sa, io dico sempre che io sono l'ultima ruota del carro qua dentro, perché il wakeboard non lo conosce nessuno. Lo snowboard già di più. Ci sono quattro discipline olimpiche. E quest'anno, finalmente, hanno preso nel freestyle due ragazze. Ma le 2017, prima, niente. Quindi deve partire da noi, da farci rispettare e far sentire la nostra voce. Perché finché noi non facciamo sentire la nostra voce, non siamo qua a rompere i marones, come si dice. Nessuno ci ascolta. Quindi, qualsiasi sport fate, che allenate la squadra di calcio, che fate le vostre gare, fatevi sentire dalla stampa, dai media, dalla radio, da tutto quello che potete arrivare. Bisogna farsi sentire, perché sennò il cambiamento non arriva. E dobbiamo smettere, perché poi il problema è anche quello, che purtroppo c'è questo maschilismo incredibile nello sport. E purtroppo anche si parla di sessismo, perché basta aprire un po' le dichiarazioni di alcuni atleti, quando anche nella nazionale di pallavolo si parla sempre che il coach la schiaffetta sul culo, queste cose non devono più succedere. Cioè, bisogna iniziare a farsi rispettare. E siamo noi donne le prime a doverlo fare. Grazie.